La giunta è solida e coesa, tuona stamattina il sindaco Massimo Seri rispondendo a chi proclamava una crisi di governo insieme alla maggioranza della città. La politica non è un mestiere per alcuni e quindi, se non erano presenti per motivi di lavoro, la minoranza non deve strumentalizzare questo passaggio che si è verificato ieri sera, continua il sindaco, perché non sarà né la prima né l'ultima volta che accadrà. Sulla proprietà della somma da dare al Fano Calcio, la replica l'assessore interessato Caterina Delbianco. Intanto non sono dati al Fano Calcio ma sono per la struttura dello stadio comunale che è del comune e quando una squadra viene ammessa a un campionato superiore sono obbligo del comune a mettere a norma lo stadio. Quindi si tratta di tutti quei lavori che abbiamo fatto per accedere al campionato di Lega Pro e ci siamo riusciti. Una parte li ha svolto in comune, una parte in collaborazione pubblico-privato li ha svolto il Fano Calcio che ha diritto a un rimborso perché i lavori sono sotto gli occhi di tutto e di tutti. Io credo, voglio fare una considerazione sul consiglio comunale di ieri sera, io credo che questa sia una vecchia politica che non mi appartiene, non respiro un buon clima. Vorrei fare una considerazione sul consiglio comunale di ieri sera, l'opposizione assieme a Riccardo Severi ha deciso di fare un gesto di uscita, in realtà i consiglieri comunali hanno anche il voto contrario, facendo questo gesto hanno fatto un meccanismo della vecchia politica che non mi appartiene e non credo che sia fare un regalo alla città questo perché così non hanno fatto un rispetto a noi come amministrazione ma hanno fatto un rispetto alla società e alla città intera perché il Fano Calcio è la squadra della città. A buon fine e da maggioranza assoluta invece è passato il contributo di 160.000 euro da girare alle società sportive dilettantistiche che aspettavano da tempo questa boccata di ossigeno preziosa perché altrimenti molte di loro rischierebbero la bancarotta.